Non è che quei cuccioli fossero proprio soli, Scar? No, cosa potevamo fare? Uccideremo Faza! Grazie a tutti! Ma noi che faremo? Sì, siamo pronti! Saremo pronti! Ma che cosa? Perché è malato? Sì, buona idea! Che serve un re? Sì! Che serve un re? Che serve un re? Che serve un re? Che serve un re? Ehi, ma tu hai detto? C'è un re? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.